Gabriele Benussi uno dei rappresentanti di casa di questa barcolana a bordo del Transpac 52 dell'Andiene come è andata questa regata segnata anche da diversi cambiamenti del vento è un vento che poi all'arrivo è scaduto e diminuito fortemente sì una regata particolare quest'anno ci aspettavamo una burra più intensa in partenza e quindi noi abbiamo scelto di partire sotto il terapieno di Barcole come tutti i triestini o quasi in partenza avevamo grossi dubbi su quali vele scegliere perché il vento saltava continuamente tra 40 gradi nord est pieno e 90 e quindi siamo partiti con il frullone su, con un genacr pronto a lissata quindi con due vele pronte, siamo partiti non benissimo quest'anno purtroppo non siamo stati proprio precisi però poi pian pianino siamo riusciti a recuperare, abbiamo girato 18esimi alla prima boa e abbiamo finito 11 o 12esimi ora non lo so perché c'erano un po' di barche davanti dunque devo dire che la barca è stata sempre performante il nostro obiettivo era arrivare davanti alle nostre gemelle visto che eravamo in 5 TP 52 siamo riusciti ad arrivare davanti a tutti questi e quindi questa è la prima soddisfazione poi la soddisfazione va per Aniene, per il nostro gruppo eravamo a bordo in 25, pensate, su una barca di soli 52 piedi quindi moltissime persone appunto perché abbiamo voluto portare sia i soci dell'Aniene che hanno sponsorizzato l'operazione e anche gli altri nostri sponsor avevano un posto a bordo si sono divertiti tutti un sacco, penso che poi la regata sta ancora continuando si stanno divertendo un po' tutti, ci sono stati molti cambi di vento e quindi è diventata una barcolana anche abbastanza tattica quali sono le tue impressioni su questa barcolana in generale e quella magari dei tanti componenti dell'equipaggio che erano qui a Trieste per questa festa del mare per la prima volta ma la mia impressione è sempre quella quando arrivi qui a Trieste e vedi tutte queste persone sulle rive e avere la possibilità di ormeggiare le barche davanti a Piazza Unità è una cosa fantastica devo dire che è stata una settimana molto intensa ho visto sempre tantissima gente e molti curiosi devo dire che la società velica Barcolagriniano ha fatto un'altra volta un lavoro veramente fantastico un'organizzazione eccellente, fortunatissima perché poi guardate che tempo c'è oggi quindi hanno un jolly che se lo giocano sempre al momento giusto perché lunedì davano previsioni di 50 nodi di bora quindi potevano anche pensare di un posticipo invece oggi giornata stupenda i nostri ospiti sono rimasti estasiati hanno già detto che torneranno arrivano da Roma, quindi dalla nostra capitale e sono rimasti veramente colpiti da tutto questo spettacolo che dà la gente anche adesso a terra e quindi il prossimo anno rinnoverranno la loro presenza qui a Trieste grazie Gabriele grazie 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 a tutti.